Grazie e buonasera a tutti. Il discorso di questa sera è la dichiarazione che il Presidente del Sudafrica Nelson Mandela ha fatto nel momento in cui ha ricevuto il rapporto della Commissione per la Verità e la Riconciliazione che noi chiameremo qui con le iniziali dall'inglese la Truth and Reconciliation Commission quindi TRC per semplicità perché è con questo acronimo che viene conosciuto dappertutto. Questa dichiarazione di Mandela è della fine dell'ottobre del 1998 perché la Commissione aveva terminato nell'estate del 98 questo suo ponderosissimo rapporto in sei volumi. I lavori della Commissione per la Verità e la Riconciliazione erano cominciati nel dicembre del 1995. Al termine un po' dopo un anno dopo grosso modo un periodo di transizione che io vi ricordo brevemente perché è particolarmente importante anche perché chi ha la mia età potrà ricordarsi come nei primi anni 90 si dava per certo da parte di tutti gli osservatori internazionali che in Sudafrica ci sarebbe stato un bagno di sangue se si fosse voluto da parte dei combattenti dell'Africa National Congress riuscire davvero a imporre la dittatura e la fine dell'apartheid cosa che invece come tutti sappiamo per fortuna non è avvenuta. Nel 1989 nel febbraio del 1989 che è un anno cruciale proprio per questa grande ondata di democratizzazione in tutto il mondo c'è un cambiamento alla guida del governo ancora dell'apartheid in Sudafrica perché al presidente nazionalista Bota viene sostituito un altro membro del suo partito che è De Klerk il quale consapevole che non si può più continuare così come per altri versi e in un altro contesto Gorbachev in Russia in Unione Sovietica si era convinto che non era più possibile continuare come prima decide di iniziare una fase di ripensamento e l'anno dopo esattamente nel febbraio del 1990 dopo una serie di colloqui che ci sono stato Nelson Mandela è liberato dopo 27 anni di prigione trascorsi a Robben Island. Da questo momento inizia una difficile fase di transizione che si conclude con le elezioni dell'aprile 1994 le prime elezioni democratiche della storia del Sudafrica chi si ricorda di averle viste in televisione rammenterà queste enormi e lunghe file di cittadini che aspettano anche ore pur di poter votare e in questo modo esprimere il proprio diritto per la prima volta riconosciuto ma fino a quel momento fino a poco tempo prima fino al mese prima non era certo che le elezioni si sarebbero potute fare perché il livello di violenza in quel periodo aveva raggiunto dei picchi tanto che in uno degli stati del Sudafrica il Kvazulu Natal era stato posto lo stato d'emergenza e quindi si rischiava di non poter far svolgere le elezioni anche perché il partito responsabile delle violenze che era il partito a maggioranza Zulu il linkata Freedom Party si era reso responsabile e aveva rifiutato di partecipare alle elezioni aveva ucciso numerosi oppositori politici e il rischio era quindi quello davvero che invece delle elezioni democratiche si iniziasse una guerra civile. Nel 1991 la legislazione dell'apartheid era stata smantellata quasi completamente nel 1992 vi era stato un referendum solo per i cittadini bianchi che per il 70 per cento però avevano appoggiato la politica di De Klerk di apertura nel 1993 iniziano le violenze e gli scontri più duri all'interno del Sudafrica in modo molto composito articolato difficile anche spesso da seguire sarà in queste occasioni che verrà ucciso per esempio il segretario del partito comunista sudafricano Crissani. Nello stesso anno Mandela e De Klerk ricevono il premio Nobel per la pace. L'anno dopo si arriva finalmente alle elezioni e il 10 maggio Mandela è eletto presidente del Sudafrica, primo presidente del Sudafrica libero e darà inizio insieme ai suoi più stretti collaboratori a quella idea di riuscire a fare i conti con il passato in modo diverso rispetto a quello che altre esperienze storiche avevano manifestato.